Il protagonista di questa puntata di Beautiful Minds non è una donna, come prevede di solito il format, ma in via eccezionale è un uomo. Non potevamo infatti non avere ospite del nostro salotto dedicato all'imprenditoria femminile, il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, che fin dall'inizio ha veramente sostenuto e creduto in questo nostro progetto Beautiful Minds. Benvenuto allora presidente Bozzi. Grazie mille dell'invito. Allora, come ho già anticipato, presidente, questo format è nato un po' per raccontare la storia delle imprenditrici e delle loro imprese. Però tu sei stato effettivamente il primo a nominare una vicepresidente, almeno che si sappia, insomma, almeno in Romagna, il primo a nominare una vicepresidente donna e lei hai dato anche la delega all'imprenditoria femminile. Ecco, credi quindi molto nelle donne, perché hai fatto questa scelta? Ricordiamo prima di tutto che Confindustria ha già avuto una presidente donna a livello nazionale, che quindi questo va assolutamente a livello nazionale abbiamo già avuto. Sì, probabilmente sono stato il primo e mi rammarico di ciò, nel senso che secondo me l'imprenditoria femminile è importantissima e dà un ruolo sempre più predominante all'interno della nostra associazione. E quindi c'è una questione non tanto di uomini, donne o chi che sia, ma di competenze e di bravura. Devo molto ospite, benissimo. Non solo ha avuto la delega all'imprenditoria femminile, ma anche ha avuto la delega allo sviluppo, è un'altra delega molto importante. Il concetto è, se ci sono delle persone valide vanno portate fuori, vanno e vanno fatte emergere, perché nel nostro mondo quello che conta è il fare, devo dire in questo senso, le donne hanno tanta bravura nel fare tante cose e tante cose in contemporanea. Quindi è giusto che ci siano ed è giusto che lavoriamo tutti quanti assieme. Spesso sono tra l'altro le donne che non accettano determinati ruoli, ne parlavamo proprio con Alessia, bisogna anche che noi donne siamo coraggiose, che quando ci affidano certi incarichi diciamo di sì, ma molte volte mi diceva proprio Alessia che dipende anche da noi. Lei che cosa dice? Ha fatto tante offerte e molte hanno rifiutato? No, la prima che l'ho fatta è l'Essida, ha accettato molto volentieri, quindi di questo sono estremamente contento, ma come al solito è la passione che porta nelle cose. Sì, è vero. E quando si ha la passione dentro non c'è niente da fare, la passione la si porta avanti e attraverso la passione si trovano gli spazi per poter combinare le mille cose che succedono. Certo, tutto si può fare. Esatto. E quindi diciamo che oggi abbiamo nominato una donna a capo della vicepresidenza, ma il concetto vero non bisogna più parlare, spero che in un futuro non si parlere più di metto una figura uomo, una figura donna, di quindi sulla legge di parità. Il concetto vero è che dobbiamo fare tutti quanti una grossissima evoluzione culturale e premiare veramente il talento, la passione e la voglia di fare. Allora, tra i punti principali della tua agenda di presidenza c'erano tanti temi importanti secondo me appunto le infrastrutture con la priorità assoluta dell'alta velocità per la Romagna, poi c'era la transizione ecologica digitale con l'obiettivo di fare della Romagna anche la Green Energy Valley d'Italia, il turismo, insomma, eccetera. Ecco, ti chiedo, a due anni dal tuo mandato, dalla tua elezione, che cosa sei riuscito a fare e che cosa pensi sarà difficile da realizzare, insomma, prima della fine del tuo mandato? Allora, prima di tutto non mi piace parlare singolare. Sì, cosa pensate? Il concetto vero è lavorare in Confindustria, un bellissimo lavoro di squadra, imparo tantissimo a lavorare in squadra, quindi dobbiamo parlare che cosa abbiamo fatto, che cosa facciamo e cosa non abbiamo fatto. Sicuramente abbiamo lavorato secondo me molto bene a Ravenna sul tema dell'energia, lì abbiamo fatto un grandissimo lavoro, siamo riusciti a portare un bene primario che era il rigassificatore di Ravenna che ci permetterà nel futuro di non avere problemi in tutta Italia sul discorso del gas. Stiamo portando avanti e ci sono degli ottimi risultati sul campo del fotovoltaico e dell'eolico con i due progetti che stanno partendo, uno l'Agnes e l'altro il progetto di Rimini che adesso stanno pian pianino decollando. Speravo di riuscire a essere più rapido, ma purtroppo la legislazione in materia non ci aiuta in questo momento. Abbiamo avuto un altro grandissimo successo a Ravenna, lo stoccaggio della CO2. Lo stoccaggio della CO2 può veramente far diventare Ravenna il futuro polo chimico dell'industria green europea. Lo stoccaggio della CO2, ricordiamoci, Ravenna è l'unico polo europeo dopo i paesi nordici, ad avere un polo chimico che fra poco diventerà green e questo è importantissimo sicuramente per lo sviluppo non solo della città ma di tutta la Romagna nel suo complesso. Quindi dal punto di vista della green energy valley ci stiamo arrivando. Questo non ho assolutamente nessun problema. Che cosa non si riuscirà a fare invece? Cosa non riuscirò a fare? Purtroppo sicuramente quando parliamo di Camera di Commercio non siamo riusciti a unificare la Camera di Commercio della Romagna con Ravenna e Ferrara. Ci abbiamo provato fino all'ultimo, purtroppo anche qui una legge dello Stato non ci ha permesso di riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Però ho già parlato sia con il Presidente Battistini sia con il futuro Presidente Guberti, sicuramente lì ci sarà un grossissimo scambio di informazioni, di dati per riuscire poi in ogni caso a riuscire a dati omogenei della Romagna perché ovviamente quello a cui come romagnoli pensiamo sicuramente ed era anche uno degli argomenti della mia elezione era parlare di area vasta di Romagna. In questo momento siamo ancora, devo dire, piuttosto indietro, è stata creata Romagna Next che è un'associazione dei vari comuni per riuscire a fare uno sforzo completamente insieme. In questo momento siamo ancora leggermente fermi perché vedremo che cosa succederà. Spero molto, devo dire, nel cambiamento della legge sulle elezioni del Presidente della provincia che possa essere uno stimolo per riuscire ad accelerare un'unione di provincia, veramente a questo punto della Romagna. Allora, usciamo un attimo dal tuo ruolo di Presidente e entriamo invece in quello di imprenditore perché tu sei consigliere delegato della Vulca Flex di Cotignola che è un'azienda specializzata nella produzione di pelli sintetiche per il settore automobilistico. E anche la tua è una storia familiare perché la vostra azienda è stata fondata da tuo nonno Attilio nel 1947. Quindi ti farei la stessa domanda che ho fatto proprio ad Alessia Valducci. Imprenditori si nasce, cioè imprenditore per scelta o per destino, scusa? Penso per scelta. A livello familiare, devo dire, mio padre non mi ha mai spinto a proseguire nella sua attività. Mi ricordo da ragazzino a 18 anni mi sono messo con un mio amico a farci fare di noi una società per prendere un negozio di fotocopi in centro a Milano perché buttavamo vicino all'università. Quindi mettiamoci a fare un po' di fotocopi, un po' di litografia. Già 18 anni ci eravamo messi a pasticciare, diciamo. Poi ovviamente come tutte le varie cose si abbandonano. Però mi è venuto poi spontaneo arrivare in azienda, nel momento che sono arrivati in azienda a fare un percorso di crescita e iniziare a coordinare prima poche persone e poi arrivare a essere direttore dello stabilimento, poi a crescere. Adesso sono ovviamente l'amministratore del... Ecco, e voi tra l'altro esportate in tutto il mondo il 96% della produzione. Noi esportiamo il 96% della nostra produzione per i tre continenti, quindi principalmente il mercato principale ovviamente l'Europa, seguono gli Stati Uniti e seguono la Cina. Però siete radicati molto nel territorio perché avete la sede a Cotignola. Quindi mi chiedo, avete questa logistica mondiale ma con appunto quest'anima e questa radice in Romagna. Perché questa scelta? È una scelta strategica. Il nostro mestiere è un lavoro, io lo chiamo semi-industriale, nel senso che l'uomo e l'apporto dell'uomo fa molto la differenza facendo prodotti estetici. Poi voi vendete abbigliamenti, avete una collezione anche di borse. La parte estetica è la parte predominante. E quindi abbiamo, la scelta strategica è quella di distribuire i nostri prodotti uguali in tutto il mondo. E per far questo, siccome gli uomini sono il fulcro di una qualsiasi azienda, il fulcro di qualsiasi produzione, un uomo che mi produce per tutto il mondo è completamente diverso, all'opposto di avere varie persone che producono lo stesso materiale in giro per il mondo. Quindi avere la stessa qualità distribuita in tutto il mondo, questo ci ha permesso di avere un grosso vantaggio competitivo nel momento in cui il mondo dell'automotive ha iniziato a fare la sua grande globalizzazione. Perché avevano bisogno di prodotti distribuiti in tutto il mondo e avere la stessa qualità, in giro la qualità, sicuramente gli ha portato di grossissimi vantaggi. Ok. Ti faccio adesso una domanda sulla conciliazione, visto che non ci deve essere differenza tra uomo o donna. Allora, una domanda un po' personale, perché tu, oltre ad essere presidente di Confindustria, sei un imprenditore, hai altri incarichi, quindi hai sicuramente una vita molto piena. Come riesci a conciliarla con quella familiare? Perché ho letto, insomma, so che tua moglie è anche una campionessa di mountain bike, di ciclismo su pista, mi ha molto appassionato la sua storia, perché ha anche detenuto vari record e quindi tu la segui in tutte le sue imprese. Ecco, come fai a conciliare la tua attività lavorativa con quella familiare e personale? Diciamo che... Ti arrangi. Mi arrangi in qualche modo, ovviamente, perché in azienda faccio il mio mestiere, in Confindustria faccio il mestiere di presidente, ovviamente quando sono a casa, a casa, quando sono in giro con mia moglie, lei in bicicletta, devo fare da assistente, da psicologo, da... Sì, perché lei corre e tu la segui. Ma il problema è che lei fa ultraciclismo sulle lunghe distanze, spesso e volentieri, sia su pista ma anche su strada, c'è da accompagnarla, da seguirla, c'è un team dedicato che la segue in tutte queste cose e io sono a capo del suo team, quindi sono... Ah, quindi comunque la segui, per cui... Assolutamente, sempre, lo dico sempre, quando c'è passione, che sia la passione, sia nel mondo lavorativo, sia nel mondo privato, si trova sempre in modo di conciliare tutto quanto. Allora ti faccio l'ultima domanda, da milanese trapiantati in Romagna, perché appunto sei stato tanti anni a Milano, che cos'ha in più la Romagna rispetto a Milano e che cosa le manca invece? La bellezza della Romagna è il suo lifestyle, c'è poco da dire, la capacità di coniugare l'attività lavorativa con l'attività privata, con questo sicuramente è la tu migliore che possa avere la Romagna. Milano è una città internazionale, noi a Milano abbiamo addirittura gli uffici, abbiamo rimasto, sono rimasti a Milano i nostri uffici commerciali, ma per una semplice logica, da Milano io raggiungo tutta Europa in giornata e vado a trovare in giornata qualsiasi cliente, cioè prendere un aereo a Milano è diventato come prendere l'autobus la mattina sulla riviera e quindi Milano è una città cosmopolita, diventerà sempre più grande, quindi bisogna nel caso avere una piccola radice, deve rimanere a Milano. Quindi diciamo che se riuscissi a fare quella alta velocità che ci permette di raggiungere da Cesena, Rimini e Bologna in un attimo e anche Milano riusciremo forse a diventare un'autobus. Dobbiamo assolutamente velocizzare, perché lo dico sempre, lavorando a Milano e ho vissuto per anni a Milano, io in tre quarti d'ora andavo all'interno della città andavo da casa all'ufficio e viceversa, qui da Ravenna a Rimini sono tre quarti d'ora, il problema non è tanto i chilometri, il concetto vero è il tempo, più noi riusciamo ad accorciare il tempo, più riusciamo a diventare internazionali e diventare competitivi nel mondo. Speriamo, grazie Roberto Bozzi. Grazie a te. Grazie a te.